Quest'anno come evento ci sarà la Polizia di Stato che viene da Firenze, un reparto a cavallo, sono due cavalieri, due agenti della polizia con due bellissimi cavalli murgesi di colore morello bellissimi e poi ci sono le giacche verdi che sfileranno dietro, poi tutti quelli che sono stati invitati e saremo quasi un centinaio di cavalli. E poi tutta la gente che è amante del proprio animale è l'occasione di stare assieme e festeggiarlo perché li vogliamo veramente bene questi animali, veramente fanno mai parte della nostra famiglia, dal gatto agli animali più grandi. E per l'occasione l'associazione è promotore di questa cosa assieme con i frati minori, i frati minori di Pesaro che celebrano questa funzione e per l'occasione in questa giornata avremo degli ospiti che vengono da Vicenza, da Ferrara, dalla Toscana e dall'Abruzzo, senza poi contare tutto quello che fa l'enturasi della nostra provincia di Pesaro Rubino. Noi siamo francescani, voi sapete che San Francesco amava tutti, tutte le creature, sia gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci che andava a predicare e noi abbiamo questo onore di stare vicino a tutte le creature del mondo, non soltanto nella predica ma anche nella vicinanza della vita, nell'essere, nel vivere, nella semplicità e nell'umiltà. E questo è un piacere per noi come me, per me come francescano e per tutti noi francescani stare vicino alle creature di Dio che San Francesco chiamava fratelli e sorelle. Voglio ringraziare le giacche verdi che ricordo che sono un corpo di ripresizione civile regionale a cavallo che intervengono e che sono vicini alle varie amministrazioni nelle varie situazioni. Però il mio intervento si è focalizzato sul fatto che il ruolo degli animali nel corso degli ultimi decenni è cambiato, gli animali nel corso del Novecento erano principalmente utilizzati per il lavoro, delle famiglie nel mondo agricolo, mentre oggi le famiglie sono cambiate, molte persone sono sole e gli animali diventano veramente la compagnia di molti. Quindi questo ruolo di stare vicino alle persone, alle persone che hanno bisogno, ovviamente anche delle famiglie che non hanno bisogno, ma soprattutto con la pet therapy oggi gli animali sono sempre più utilizzati per stare vicino alle persone con facilità o persone disabili e quindi hanno svolto, stanno svolgendo un ruolo diverso ma comunque sempre importante nella vita di tutti noi. Come passione ho i miei asini che andiamo a fare camminate, trekking, tutto a livello personale, non come attività vera e propria. Poi abbiamo qualche compagno tipo la Susi oppure la Galina, la Capretta che sta girando qui in giro. E niente, come la passione piuttosto che un altro, conosciuto l'asino dopo il cavallo non c'è stato proprio più verso da fare. Hanno una marcia in più. Quando poi ci sono queste manifestazioni per far vedere un po' anche i bambini, un po' la gente in generale, che non è più così facile vedere questi animali in giro, e comunque incominciano a esserci. E niente, cerchiamo di venire per poter essere un po' presenti e così, e passare qualche ora insieme a tutti quanti.